Arrivano gli abagnale. Perché gli abagnale? Perché remate per l'eredità. Pensate per voi. Noi abbiamo famiglia, abbiamo certe esigenze. Zio Giannangelo questo lo sa. Ciao Giannangelo. Ciao Giannangelo. Ciao Gianna. Ciao Angela. Guardate che lo zio non vuole vedere nessuno. Ma andate a casa, tanto a voi non lascia niente. Ciao zio. Non sono mica qua per i soldi, sai? C'è il quinto piano. Guarda, è bestiale. Mio fratello ammazzerebbe lo zio con le sue mani. Ma non esageriamo. Non esageriamo. Io una volta lo prendevo in giro. Lui sai cosa mi vede? Io ho fatto i miei calcoli, di Giannangelo è vecchio, di una moglie, di una figlia. Chi lascia tutti questi miliardi? Bisogna farci amare da lui. È come un lavoro. E poi alla sera, pregare che muoia e aspettare la lettura del testamento. Ti capi che piero, mio fratello? Bastardi merdosi! Fusi l'animi! Zio! Non chiamatemi più zio, ho sentito tutto. Ma no, ma no. Carogne, mi fate schifo! Non era io, ma io fratello che ha detto quelle cose, zio? La febo no! La febo no, zio, lago no! No, lago mi pungi! Aia! Ma mi pungi, zio! Oddio, ma fattore lago puntura! Aiutami, aiutami, mi risolta anche l'acqua. Il vostro piano non funzionerà. E sapete perché? A voi due idioti non ho lasciato niente. L'ho fatto apposta. Non vi permetterò di usare una lira dei miei soldi per le vostre invenzioni. Tutte cazzate! Ma allora lo sai. Certo che lo so! I vostri fratelli mi tengono al corrente di tutto. E anche Enrica, loro sì che sanno rendersi utili. Allora sa tutto. Ma zio, nostro pelapatate è l'invenzione monzale. Lascio tutto a loro, miliardi, ai vostri fratelli, che penseranno all'azienda. Miliardi a Enrica e a zia Federica, che mi mandò a scuola. A voi, niente. Non è morta zia Federica. Sì! Io creo prodotti per l'igenere personale. Non pelapatate! Non mi voglio vedere mai più. E se mi chiamate ancora una volta zio, io vi denuncio! Zio, noi siamo gli unici in tutta la famiglia, che non vogliamo i tuoi soldi, zio! No! Infatti, siete gli unici che non vi avrete! Ah, che fate voi qua? Via, via! Non voglio valere nessuno! Oh, Gesù! Ma figlio! Ma lasciaci almeno spiegare! Ma vuoi farlo investire? Che c'è da spiegare? Che c'è da spiegare? Ma cosa hai detto? Che hai detto? Ragguagliami, ragguagliami! Che sei un chiusciame nubile, un giacalusto che...